Carissimi amici, salve Maria! Io sono Gianluca degli Eraldi del Vangelo e vi do un bentornato sul nostro programma. Siamo anche questa volta insieme per camminare con i Santi. Difatti ogni volta che ci incontriamo cerchiamo di estrapolare qualche concetto da una storia, una storia di un santo, un concetto che ci aiuti a camminare verso il cielo. Ecco oggi voglio parlarvi di una bambina capricciosa che si è trasformata in una donna di Dio incredibile, una santa straordinaria, una santa che oggi ci insegna il rapporto intimo con la Santissima Trinità. Ma prima di cominciare preghiamo a Maria Santissima, la nostra madre, che ci illumini, ci ispiri, ci apre il cuore e ci aiuti a tirare fuori da questa storia, quello che ci serve per la nostra crescita spirituale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Senno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco amici, siamo alla fine dell'Ottocento. Abbiamo questa bambina capricciosa, ma capricciosa tanto è, ma tanto. Cioè nel senso quando si arrabbiava cominciava a urlare, sbattere i piedi. La sua sorella, tre anni più piccola, ha raccontato di scene incredibili che Elisabetta, adesso diciamo il suo nome, Santa Elisabetta della Trinità, che Elisabetta la bambina, la piccola Elisabetta, faceva. Scene incredibili. Cioè magari si litigava per un gioco, lei sbatteva tutto, urlava, gridava, capricci, la mamma non le dava qualcosa, ecco ricominciava a urlare. Insopportabile, insopportabile. La mamma era tanto preoccupata perché comunque quando arrivi a 6-7 anni, 8 anni, che ancora sei capriccioso, che hai difetti grossi, perché Elisabetta aveva difetti grossi, rischi di portarteli avanti, rischi che se non correggi subito, se un genitore non corregge subito i piccoli errori dei figli, man mano diventano grandi problemi ed adulti si rischia di trascinarsi dietro queste brutte inclinazioni. E la mamma era tanto preoccupata perché il carattere era insopportabile, ecco il carattere di sua figlia era insopportabile. Pensate soltanto che una volta a Natale la mamma aveva prestato alla parrocchia dove frequentavano, dove andavano alla messa, ecco aveva prestato il loro bambinello. Santa Elisabetta, piccolina, aveva avuto 5 anni, 6 anni, non ne sapeva niente di questa cosa, però sapeva qual era il loro bambinello, ecco. Durante la messa, lei, mentre il sacerdote metteva il bambinello nella grotta, lei si rese conto che quello era il suo e cominciò a urlare, ma urlare in una maniera contro il prete, contro il padre. Don, ma chi ti ha detto di prendere il mio bambinello? Quello è il mio, me l'hai rubato, non mi hai chiesto il permesso. Ma, amici miei, furiosa, ma furiosa. E tutta la chiesa cominciò a ridere, una bambina furiosa perché il padre aveva rubato il suo bambinello. E quando lei si accorse che tutti ridevano di lei, perché lei era anche estremamente furba, andò completamente in escandescenza. Cominciò a urlare, tanto che la madre dovete trascinarla fuori dalla chiesa. Ma, ma scene, scene incredibili. Quindi, stiamo parlando di una bambina veramente, veramente difficile. E ora vi chiederete, ma com'è diventata Santa Elisabetta della Trinità, con la grazia. Perché la grazia è il potere di trasformare chiunque. Dal giorno della sua prima comunione è cambiata totalmente. Certo ci ha messo il suo impegno, ha riconosciuto i suoi errori, si è riconosciuta debole e ha chiesto aiuto alla misericordia di Dio, a Maria Santissima. È la grazia che l'ha cambiata. Dal giorno della sua prima comunione è visibilmente cambiata. E da lì ha cominciato un percorso. Un percorso incredibile che ha trasformato questo temperamento collerico, ma collerico nel senso negativo della parola. Cioè, lei aveva tutti i difetti di un collerico. Tutti. Ma accentuati all'ennesima potenza. Si arrabbiava, teneva il broncio. Ecco, tutti i difetti di un collerico all'ennesima potenza. Ecco, lei ha trasformato il suo temperamento. Una beata che si chiama Luisa Piccarreta dice che il temperamento di ognuno di noi, noi sappiamo che ci sono diversi temperamenti, cioè il collerico, il sanguigno, il flemmatico, il melanconico. Ci sono dei video di Padre Ignazio sul nostro canale a proposito dei temperamenti. E poi ci sono migliaia di sfumature di questi temperamenti. Però più o meno il mondo si clasterizza in questi quattro temperamenti e poi diciamo, ognuno ha le sue sfumature, nessuno è totalmente 100% di un temperamento. Ecco, tutti noi siamo diversi e tutti noi abbiamo delle sfumature di temperamento. Ecco, una beata, Luisa Piccarreta, diceva che la santità consiste nel perdere il proprio temperamento e acquisire il temperamento di Dio, il temperamento di Gesù Cristo. Ecco, Gesù Cristo aveva il temperamento perfetto, cioè prendeva tutte le cose buone da tutti i temperamenti. Era deciso come un collerico, deciso nel buon senso della parola, cioè Gesù Cristo aveva l'obiettivo di redimere il mondo e l'ha portato fino alla fine. Aveva le cose buone di un sanguigno, il sorriso, no? Il sorriso nei momenti buoni. Aveva la contemplazione di un melanconico, no? E aveva la capacità di non perdere la pazienza di un flemmatico. Gesù Cristo aveva il temperamento perfetto, vero uomo, vero Dio. Ecco, quindi ognuno di noi deve cercare di assumere il temperamento di Gesù Cristo ed è quello che i Santi cercano di fare, è quello che Santa Elisabetta ha sostanzialmente fatto, ha imitato quanto più possibile quello che possiamo fare, il temperamento di Gesù, perché questa bambina collerica, un po' alla volta, si è trasformata, si è trasformata dal giorno della sua prima comunione. Cominciò ad amare così tanto la Santissima Trinità che nel cuore aveva il desiderio costante di diventare suora, fino a quando, all'età di circa 14 anni, chiese a sua mamma, mamma, io voglio entrare nella fortezza del Carmelo, voglio essere una carmelitana. La mamma, che sì, stava vedendo una trasformazione della figlia, ma una trasformazione che non era ancora avvenuta totalmente e aveva paura che quei rimasugli del suo temperamento potessero rovinare la comunità o rovinarle la vita. Quindi la mamma rispose, sì figlia mia, io ti autorizzo ad andare nel Carmelo, però entrerai al compimento dei tuoi 21 anni. In questo periodo sostanzialmente le comunicò, dovrai cambiare. Ecco, la madre dicendo queste parole si aspettava che Santa Elisabetta, che era ancora Elisabetta, diventasse furiosa come al solito, no? Che cominciasse a spaccare tutto perché non accettava un no. Ma lì la sorpresa. Elisabetta disse, va bene mamma, entrerò nel Carmelo a 21 anni e da lì cominciò a perseverare, a perseverare, a perseverare, a cercare di migliorare ogni giorno uno dei suoi difetti. Santa Elisabetta, e qui arriva la parte bella di questa storia, cambiò e cominciò a sentire nel cuore una presenza. La sentiva fisicamente, diceva, ma che c'è dentro di me? Ma io sento qualcosa, qualcuno, ma non aveva ancora chiaro di che cosa fosse, chi fosse questo qualcuno, cosa fosse o meglio, era cattolica, praticante, voleva essere una sua, ma questa presenza, che cos'era? andò a confessarsi e chiese a un padre, padre ma io sento qualcosa nel cuore, ma mi spieghi che cos'è? E il padre le disse, quello che tu senti nel cuore, perché lei dettagliò, si chiama inabitazione trinitaria. Ed è questo di cui voglio parlarvi oggi, che cos'è l'inabitazione trinitaria? Dentro di noi vive e Dio. La Santissima Trinità, padre, figlio e Spirito Santo, tre persone, un solo Dio, abita dentro di noi, o meglio noi abitiamo dentro di Lui, in Lui ci muoviamo, viviamo ed esistiamo, ma andiamo sul semplice. Dio vive dentro di noi, vive dentro di noi. Cioè noi possiamo avere un rapporto intimo con Dio nel nel nostro cuore. È incredibile. Cioè nel senso, noi pensiamo Dio nell'alto dei cieli, Dio certo è ovunque, ma Dio vive nel nostro cuore. E se riusciamo a capire questa cosa diventa incredibile la nostra vita. pensate che quando Elisabetta ebbe la notizia e il padre le spiegò che cos'era questa inabitazione trinitaria, lei più tardi confesserà, io da quel momento volevo solo che il prete che mi stava confessando stesse zitto, perché volevo entrare in colloquio con la Santissima Trinità. Ed ecco cosa faceva lei, si perdeva nell'inabisso, nel grande abisso della Santissima Trinità. Ora magari alcuni di voi chiedono, ma che senso ha andare in chiesa? Ma Dio vive dentro di me, perché? Perché andare in chiesa? Ecco la messa è il momento in cui riviviamo la vera passione, ok? La vera morte e resurrezione del nostro Dio, il Signore nostro Gesù Cristo. E quando noi ci nutriamo di quel pane, di quel pane che è diventato corpo, sangue, anima e divinità di Gesù, ancora di più ogni volta entriamo nell'abisso della Santissima Trinità. Tutte le comunioni ben fatte ci inabissano in questo mistero e più noi entriamo in amore, in confidenza con il nostro Dio, più continuiamo a camminare nella via della virtù, più noi cresciamo nell'abisso della Santissima Trinità, cresciamo in questo amore sconfinato della Santissima Trinità. Quindi quello che vi dicevo all'inizio, sì, Dio vive dentro di noi, né? Noi viviamo dentro Dio. Siamo noi che man mano crescendo nella vita spirituale, inginocchiandoci davanti al nostro Dio, inginocchiandoci davanti alla Santissima Eucaristia, prendendo parte a quel banchetto incredibile che ci dà la forza, che ci dà la grazia, che ci dà la vita, ok? Che ci trasmette la grazia, ok? Partecipando a quel banchetto entriamo nel grande mistero della Santissima Trinità e cresciamo. Sotto Lui stesso, il nostro Signore Gesù Cristo, dire chi non mangia il mio corpo e non beve il mio sangue, non avrà la vita eterna. Quindi sì, la presenza del nostro Dio è una presenza reale, ma Dio è dentro di noi ed è dentro tutti, tutti, anche i non battezzati, Dio è dentro chiunque, ma Dio è dentro di noi come padre, amico e fratello quando noi siamo in stato di grazia, ok? Quando noi rispettiamo i comandamenti, quando noi cresciamo nella via della virtù, perché altrimenti Dio è dentro di noi, ma non come padre, non come amico, non come fratello. Dio è dentro di noi per sostenerci, ma non c'è un rapporto di amicizia con Lui. Ecco quindi sì, in Abitazione Trinitaria Dio vive in qualsiasi essere umano, ma come padre, amico e fratello vive in coloro che sono in stato di grazia. Stato di grazia che dobbiamo in ogni modo possibile cercare di essere in questo stato di grazia. Nessuno di noi può essere certo di essere in stato di grazia, ma può presumerlo, può presumerlo rispettando i comandamenti, confessandosi con una cadenza, spero abbastanza prossima da una volta all'altra, partecipando alla messa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo Dio che sostiene l'universo, che sostiene ognuno di noi, può essere anche nostro amico ed era quello che Santa Elisabetta sentiva nel cuore. Dio era suo padre, suo amico e suo fratello e viva dentro di lei. E questo è il grande mistero della inabitazione trinitaria. In Lui ci viviamo, in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Santa Elisabetta di questo ha fatto, tra virgolette, la sua filosofia di vita. È stata una santa incredibile perché si è persa in questo mistero, in questo mistero che capiremo probabilmente neanche totalmente in Paradiso. Perché alcune cose saranno impossibili da capire sempre, come la grandezza della Santissima Trinità. E chi meglio di Maria Santissima è stata prossima a questa Santissima Trinità? Chi meglio di Maria ha vissuto totalmente, per quanto un essere possa, ha vissuto il mistero dell'inabitazione trinitaria. Maria Santissima è il nostro insegnamento cardia, è la nostra stella polare in questo mistero dell'inabitazione trinitaria. E Santa Elisabetta della Trinità, questo l'aveva capito, a 21 anni perseverò, entrò nel Carmelo e si offrì vittima, si offrì vittima sacrificale, chiese a Dio, di prendere su di sé tutte le sofferenze per unirsi più profondamente al mistero della croce. Dice Dio, se tu vuoi, mandami tutte le sofferenze che io possa sopportare, mandami tutte le sofferenze che tu vuoi, io le accetto e te le offro per il bene dei miei fratelli delle altre anni, per la conversione dei peccatori, perché tutti sappiano com'è bello essere in confidenza con te, com'è bello essere tuo figlio, tua figlia, tuo amico e tuo fratello, tua sorella. E lei voleva esprimere questo concetto a tutti, lei proprio disse vorrei che tutti sapessero del mistero dell'inabitazione trinitaria. Quello che vi dico oggi quindi è continuiamo a inginocchiarci davanti alla Santissima Eucaristia, continuiamo a fare adorazione al Santissimo Salamento, continuiamo a partecipare alla Santa Messa, facciamoci accompagnare da Maria Santissima, perché? Perché sempre di più possiamo sprofondare in questo mistero inesauribile. Detto ciò vi consiglio di condividere questo video con i vostri amici, perché sono sicuro che potranno trarre da questi concetti un insegnamento che gli aiuti a camminare nella loro vita spirituale. Detto ciò vi assicuro le mie preghiere e vi auguro un buon fine settimana. Salve Maria.